Ciao, benvenuti e bentornati ad Opera Prima, questo è il format in cui indaghiamo sui primi passi dei grandi registi nel mondo del cinema Quindi Cameron, Lynch, Pasolini Saidonia, al secolo Francesco Cilurso però conosciuto dai più come Saidonia Come hanno fatto a diventare le leggende che sono oggi? In questo episodio di chi parliamo Mauro Zingarelli? In questo episodio parliamo di un regista che da molti è considerato uno che pronti partenza via ha fatto il botto Ovvero Quentin Tarantino E allora partiamo Sempre meglio Sempre un po' in anticipo Partiamo con la domanda più facile di tutte Qual è l'opera prima di Quentino Tarantino? Vediamo, andiamo sempre sul nostro fedelissimo IMDB Scendiamo un attimo, vediamo che c'è, vabbè qui è una domanda facile in realtà che lo sanno tutti con il primo film di Tarantino Nel 92 le iene Quindi è iniziato proprio con pam 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 Le iene secco proprio Eh sì sì Ok però io vedo lì che c'è scritto my best friend's birthday Perché non lo stai considerando poverino? Entriamo quindi Che fa schifo Subito a bomba nella fase chi era Tarantino prima di fare il suo primo film Partiamo da prima Partiamo da prima Ok Tarantino non è proprio uno studente modello Come nessuno degli registi di cui abbiamo parlato in questa serie E infatti lui lascia la scuola a circa 15 anni E fa diversi lavori Tra una cosa e l'altra lui cerca di diventare attore Nel provarci quello che succede è che per mantenersi Per cinque anni da quando ha 22 anni circa Si mette a lavorare in questa videoteca Mentre è in California Per cercare di mantenersi mentre prova a diventare attore O in generale Entrare a far parte Del mondo del cinema Quello che succede È che durante questo periodo Fa quello che tutti quanti noi Aspiranti registi E persone che vogliono entrare a far parte del cinema Si mettono a fare Ovvero dicono Adesso faccio un corto Ma Ma lunghissimo Ma Tarantino sta fuori di testa E quindi dice ok No io faccio un film Giusto Che si chiama My Best Friend Birthday Che è questo qui Essenzialmente Quindi con i suoi guadagni Da Videotecatore Da videotecatore Prova a realizzare questo film Ora Prova perché il problema è che Ci mette tre anni Gira per ogni weekend Per circa tre anni Con i suoi amici Con lui come protagonista Guarda Ma in realtà Lo troviamo subito Per tre anni Eccolo qui 36 minuti Ok Cioè quindi lui in tre anni Ha girato 36 minuti Un po' di più in realtà Quello che succede È che purtroppo Oltre ad essere molto complicato Oltre ad essere una cosa Che lui impara facendola Quindi gira questo film E ogni weekend Impara una cosa in più Rispetto al weekend precedente Perché girare comunque Un film Non è una roba Che lui non aveva fatto Nessuna scuola No no Non ha fatto niente Lì era solo un grandissimo Appassionato di cinema Il problema è che A un certo punto C'è un incendio Al laboratorio Dove ti è nella pellicola Perché ovviamente La pellicola Non lo puoi sviluppare A casa tua Come Ti pare a te Ma devi portarla A un laboratorio Che te la sviluppa Gran parte Del girato Viene perso Perché viene bruciato E quindi lui Continua a girarla Lungo questi tre anni E accumula Questi 36 minuti Di montato Alla fine Però il film Non è Completo Perché lui dopo tre anni Si guarda indietro E dice Questa roba fa schifo Cioè Da una parte E meno male Che ha preso fuoco Perché se no Il suo primo film Sarebbe stata questa monnezza Invece delle iene Diciamo che Si rende conto Ok Non sono stato in grado Di fare una roba Coerente Però Dice Io Non mi sono arreso Cioè anche quando ha preso fuoco Tutto Comunque ho continuato A A girare questa roba E cercare di Di farla funzionare E di fatto Questo film Dice lui È stata La mia scuola di cinema Cioè Ho imparato Girando Ma infatti poi ti chiedo Come si è passati Da tre anni Per tirare fuori 36 minuti Di Monnezza A Poi fare come primo film Le iene Partiamo da La più grande caratteristica Di Tarantino Tarantino È Uno dei più grandi Appassionati di cinema Nel senso è uno che si studia Vede un sacco di film E quindi per lui Lavorare In una videoteca Era Un sogno Perché praticamente Quello che faceva Era Consigliare film Agli altri In un periodo 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 Quindi non potevi andare A leggere le recensioni Di vecchi film O scoprire Che voti aveva sui MDB Cioè O meglio C'era Ma non lo si usava In buona maniera C'era Tarantino Che ti consigliava C'era Tarantino C'era il grande classico Di andare in una videoteca E dire Mi è piaciuto questo film Tu che sei il proprietario Della videoteca Che cosa mi consigli E lui Che era un Un dipendente Non era il proprietario Però era Il responsabile Dello store Aveva tutta una serie Di film Che lui Consigliavo Che guarda questo Se ti è piaciuto questo C'è questo film vecchissimo C'è questo film Pazzesco E gli piace un sacco I film di genere Quindi Conosceva a memoria Ogni tipo di film Fatto in ogni tipo Di epoca Aveva addirittura Gente che nella sua vita È stata consigliata In videoteca Da Quentin Tarantino Può dire Questo film Me l'ha consigliato Quentin Tarantino Non ti dirò di più Lui faceva dei mini Film festival Nel senso che lui All'interno di questo store Aveva Uno scaffale Che era il suo In cui organizzava Queste 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 settimane Tematiche Quindi tipo Quentin consiglia Lo scaffale Quentin Quentin consiglia Tutti i film Di black exploitation Quentin consiglia Tutti i film Di arti marziali Anni 50 Tutti i iced movie Tutte E lui Riempiva questo scaffale Dice ok Questi sono i film Che consiglio Questa settimana Guardiamoci tutti insieme Facciamo delle Piccole proiezioni Tarantino È un autore Molto autore È uno di quelli Che fa i film Di Tarantino Diretti da Tarantino Scritti da Tarantino Non è solo un regista Ma è proprio Un autore A tutto Sì è un marchio Di fabbrica Tarantino Però all'inizio Della sua carriera Se andiamo a scrittore Troviamo Una vita al massimo E assassini nati Di cui Lui scrive Solo la sceneggiatura Ma non dirige Una vita al massimo In originale True Romance Diretto da Tony Scott Quindi comunque Non un cretino Qualsiasi E assassininato In Natural Ball Killers Diretto da Oliver Stone Ora My best friend's birthday Non è completamente inutile Perché molte Delle idee Di my best friend's birthday Finiscono poi Dentro True Romance True Romance Quindi è questa sceneggiatura Che lui scrive Anche se la data qui è 93 Quindi successiva alle Iene Lui la sceneggiatura La scrive subito Dopo aver rinunciato a fare My best friend's birthday Quindi è la sua prima sceneggiatura Perché 93 è la data uscita al cinema Esatto Lui scrive True Romance Convinto di dirigerla È un film che comunque Ha molte delle caratteristiche Dei film di Tarantino No Sono questi due Questi due amanti Criminali Esatto Questo concetto qui Il problema è che Non riesce in nessun modo A ottenere la legge Di questo film Perché lui è uno sconosciuto Ed è completamente fuori Dal giro Di Hollywood Lui è un tizio Qualsiasi Come chiunque di noi Appassionato di cinema Che sta a casa sua Può scriversi le sceneggiature Perché gli piace tanto il cinema A canna Quindi pure True Romance Quindi è un fallito Perché di base a 30 anni Non ha combinato un c***o Nella vita Ok Mi piace che tu la vedi In questa maniera Però ok Quello che succede È che Ha una piccola gioia A questo punto Qualcuno decide di acquistare La sua sceneggiatura Di True Romance A caso È semplicemente Continuando a farla girare La leggo Bella Effettivamente funziona La compriamo La opzioniamo Quindi non è detto Che la Che la produciamo Semplicemente I diritti adesso sono i nostri Quindi ne facciamo quello che ci pare Però gli danno dei soldi Gli danno dei soldi Il minimo sindacale Ovvero 30.000 dollari Vabbè Buttai via Lui ottiene questi 30.000 dollari E dice Sentite Io mi sono proprio Rotto Il c***o Quindi Facciamo una cosa Io quanti soldi ho? 30.000 Perfetto Io adesso Scrivo un film Che costa 30.000 dollari Basta Mi sono rotto le palle E scrive quindi? Le iene Che però Aspetta 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 Ci arriviamo 30.000 dollari I primi 3 minuti No Il suo obiettivo ovviamente Era girarlo in 16 mm In bianco e nero Perché ovviamente La pellicola in bianco e nero Costa di meno Però insomma Scrivo un film In cui ci sono una serie di persone Che parlano In una c***o distanza E basta Perché mi sono rotto le scatole Di cercare di convincere La gente che sono capace A fare il mio lavoro Quindi Vaffan***o Lo faccio e basta Lo faccio e basta Ok Scrive le iene in 3 settimane addirittura Cioè proprio si mette sotto E l'ispirazione gli viene Proprio da quel suo scaffale Che all'epoca Era nel momento Degli iced movie Ovvero i film con la rapina Quelli Con il colpo da fare Esatto Per svoltare la vita Trovare La squadra Per rapinare Però l'idea geniale di Tarantino E voglio fare un film Con una rapina Senza far vedere la rapina Perché è certo Perché è quella cosa di più Ma perché è anche la cosa più particolare E quindi dice Ok Scrivo questo film Lo scrive Dice vabbè Fatto Me lo faccio da solo Caso vuole che Se noi adesso andiamo a controllare I produttori delle iene Ecco qui Troviamo questo Lawrence Bender Che è questo Tra l'altro anche Tizio qui Colui che Parteceva a Futurama Esatto Sì è proprio lui Sì sì E Lawrence Bender È un Un aspirante attore Come Tarantino Che vuole fare Di Cimena Vuole fare il produttore Viene riconosciuto da lui Perché dice Io ho letto una sceneggiatria Si chiama True Romance Che era pazzesca Con un nome Simile al tuo Ma non è possibile Che sei tu Tarantino fa So io So io So proprio io Ho già fatto io True Romance Lawrence Bender Non è proprio Il massimo Dei Dei produttori Cioè Lawrence Bender Sta al mondo Della produzione di film Come Quentin Tarantino Costa al mondo Della regia dei film In quel momento Nel senso Assolutamente niente Una speranza E tre anni Per 30 minuti Esatto E quindi Semplicemente Legge la sceneggiatria Delle iene E dice Zio Ma questa roba È una mina atomica È una mina atomica Ti prego Fammi trovare Dei finanziamenti Lavoriamoci Lavoriamoci E Tarantino E dice Chi te se schioppa Perché No perché dice Allora Io ho provato per tre anni A farmi un film da solo Poi ne ho spesi Altri due a cercare Dirigere True Romance E mi hanno tenuto appeso Della telefonata E lo facciamo Lo facciamo Lui dice In quel momento Lui era sempre due settimane A due settimane di distanza Dalla realizzazione del film Era sempre Guarda adesso capiamo Adesso lo facciamo Adesso lo vediamo E questa roba È andata davanti Per cinque anni Tra True Romance E Natural Border Killers E lui dice No Tu c'hai Due mesi Se vuoi trovare dei soldi Per fare questa cosa Poi Chi te se schioppa Altrimenti Chi te se schioppa Me lo faccio Con i miei 30 mila dollari Direi Dai credits Che ce l'ha fatta Perché dove ha prodotto Good Will Hunting In Glorious Bastards Tutta roba Di Tarantino Che build Pulp fiction Insomma Non proprio Gli ha detto bene A beccata Tarantino A quella festa Sicuramente Qual è L'idea geniale Di Lawrence Bender È Troviamo Un attore Troviamo Una Una persona Che abbia Una valenza All'interno dell'industria Che dica Famosto progetto Esatto E la verità È che Quando Tarantino Scrive Mr. White C'ho una citazione Qui specifica Dice Io non ho scritto Quella parte Per Harvey Keitel Che poi è l'attore Che va a interpretare Mr. White Perché io pensavo Che Mr. White L'avrebbe dovuto Fare mio zio Pete Cioè nel senso Nella mia testa Nel momento in cui Stavo scrivendo il film Era O spendi soldi per la pellicola O per gli attori Esatto Però effettivamente Se C'era una persona Che Tarantino Ovviamente Per quel ruolo Era proprio Harvey Keitel Che all'epoca Era un grosso nome Che non era suo zio Che non era suo zio No Esattamente Ora Caso vuole Che Lawrence Bender Andava a lezioni di recitazione Da Da Una persona No No Una persona Che A cui fa leggere la sceneggiatura E la trova molto molto interessante Questa persona quindi La porta alla moglie La moglie Era Un'altra attrice Che legge la sceneggiatura E dice Ammazza È molto interessante È fica Perché me l'avete mandata E la risposta di Lawrence Bender È Perché tu Conoglie Del mio insegnante Di recitazione Conosci Harvey Keitel Madonna Gliela puoi dare per favore Ti prego E dice Va bene Ok Gliela faccio leggere Harvey Keitel Legge la sceneggiatura Pensa sia Pazzesca Telefona Lawrence Bender Che si ritrova al telefono Con Harvey Keitel Che gli dice Oh Famolo Dai Stai fissa Bello E quindi lo produce anche No Sì Più o meno Nel senso Diventa coproduttore Perché all'epoca Il problema Che sia Lawrence Bender Che Quentin Tarantino Non se la passavano Benissimo Dal punto di vista monetario Keitel Gli dice Avete bisogno di Tanti attori Bravi E voi avete fatto Solamente casting A Los Angeles Vi manca Tutta la fetta Di New York Ok E loro gli dicono Sì zio ma Come famo Chi ce l'ha i soldi E gli dice Vabbè ok Pago io Ah vabbè Nel senso Vi pago L'aereo E l'albergo A New York Vi pago Un casting director Affittiamo Una stanza E facciamo Dei casting A New York E per fortuna Perché proprio Dei casting A New York Esce fuori Steve Buscemi Che effettivamente Entra a far parte Del progetto Grazie a questi casting Finanziati da Keitel Che quindi poi diventa Coproduttore Effettivo del film Ok A quel punto Con il nome di Keitel Iniziano ad arrivare Una serie di Finanziamenti A destra e a manca E quindi Arrivano a un totale Se non ricordo male Di un milione e mezzo Di dollari Per produrre effettivamente Il film Che non è male Insomma Non è male Per fare quello Che doveva fare il film Nello specifico Uno dei produttori Legge la sceneggiatura E anche lui Ha Questo problema Di Legge la sceneggiatura Dire è bellissima Ma chi la dirige? Un tizio a caso? Questo non ha mai fatto niente Non ha mai diretto Un corto Non ha mai Ha fatto solo robe sue Ha fatto 30 minuti In tre anni Non ha mai diretto Uno spot Una base Non ha mai diretto Niente Non fa questo lavoro Capito? Non è qualcuno Che è già Chi è? Però Legge la sceneggiatura Dice Ok L'unico Modo Per sbagliare Questo film È che questo tizio Sia un incompetente Totale E quindi forse Me la collo Dai Su Anche che comunque Tu dici L'ha scritto Quindi non può essere Proprio un coglione Chissà Ci metti a fianco Magari un aiuto regia Un direttore fotografia Capaci E gli danno una mano A fare le cose Che non sa fare Quindi Un milione e mezzo Sono pronti finalmente A partire con la produzione Delle Iene Il primo film di Tarantino La cosa che noto in comune Tutte le storie Di cui abbiamo parlato È che c'è sempre Un attore Che svolta la vita Al regista Sì Allora Tendenzialmente Quello che ho capito io È che Questo mondo Se non c'hai l'aggancio Di quello Che poi dici agli altri Che sei capace A fare le cose Che in questo caso Sono gli attori Non parti Allora Diciamo che più o meno Perché con Spielberg Non è successo così Lì aveva dalla parte Un produttore Però il concetto È che Il mondo del cinema È un mondo molto Basato sui rapporti umani No non solo È un mondo poco accademico Nel senso Non è una cosa Che puoi studiare Per saperla fare Quindi hai sempre bisogno Di qualcuno Che garantisca per te Hai sempre bisogno Di qualcuno Che dica Fidatevi Perché L'unica maniera Per dimostrare Di saper fare un film È aver fatto un film E quindi Se non l'hai mai fatto C'è bisogno di qualcuno Che dica Mi prendo la responsabilità Di dire che questa persona Sa fare un film E quindi è un po' quello Solitamente con gli attori È la cosa più facile Perché l'attore Sono artisti Quindi si accolano Di più il rischio Rispetto ai produttori I amari Sono un po' più calcolatori Ma poi magari l'attore Legge la sceneggiatura La trova brillante E dice Poi a prescindere dalla regia Se il personaggio è interessante Io ho la possibilità Di fare questa cosa Vuole farla La voglio fare Poi chi se ne frega Come viene diretta A me non importa Che poi faccia soldi A me importa Che esce fuori Che io Abbia fatto questa parte Molto molto interessante Quindi Con l'attore Solitamente il rapporto Va bello Quindi che casini Ci sono stati Sul set di questo film Che sicuro ci sono stati No in realtà Ci sono stati Relativamente pochi problemi Perché era un film Molto semplice da fare Era un film economico Ma molto semplice Io vorrei portare La tua attenzione Se andiamo a vedere I crediti da regista Di Tarantino Puoi notare Che se nel 92 Trovi le iene Tu nel 91 Trovi questo qui Reservoir Dogs Sundance Institute June Film Lab Che c***o Esatto Video short Diretto Ah un corto Mi hanno fatto Fa un corto Per capire Era capace Più o meno Allora Il Sundance Finfestival Esatto Finfestival L'istituto Insomma È una sorta di incubatrice Per registi emergenti Fa Faceva questa cosa Di Permettere Ai registi emergenti Di andare lì E con delle attrezzature Un gruppo di tutor Di registi Affermati Provare a fare Le loro cose Con la La preproduzione Già in partenza Dicono a Tarantino Senti Se vuoi puoi venire A fare delle cose Dici ma io sono in preproduzione Per il film Non posso venire un mese A fare sta roba Vengo due settimane Si porta Steve Buscemi E gira alcune scene Che non sono poi Quelle che finiscono nel film Perché sono È un dialogo tra Mr. Brown Quello interpretato da Tarantino E Mr. Pink Interpretato da Buscemi Quindi sono scene Che non esistono Nel film Ecco qui Sono questi Circa 11 minuti Di Di dialoghi E di piani sequenza Che lui prova a girare E questo è già tutto In quelle due settimane Sì Praticamente Lui c'ha due gruppi Di dolor diversi La prima settimana Un gruppo Di cui Non hanno voluto fare il nome Perché dice che non è capace Guarda la tua roba Di una tua roba Fai queste inquadrature Che sono troppo lunghe Tutte storte Si vede troppo pavimento Non si cresce E niente E il secondo gruppo In cui invece c'è Terry Gilliam Che invece Guarda il suo lavoro Dice tu sei un genio Continua così Vai avanti Per il resto Tutti gli altri problemi Che incontrano Durante le prese delle iene Sono relativi A la poca quantità Di soldi che hanno Quindi Hanno bisogno di qualcuno Che gli faccia Gli effetti prostetici Perché il film È pieno di sangue Ti voglio ricordare Che a un certo punto C'è un orecchio Che viene tagliato via Tutta una serie Non credo sia un vero orecchio E viene tagliato via Esatto Ok Accetta di farlo La K&B Ora Tu adesso mi dici La K&B È nuova come sigla Perché so IMDB Tutta quei robe lì La K&B Sono la K&B FX Group Che è fondata Un nome di merda Robert Kurtzman E Ah Greg Nicotero Colui Che ha inventato Gli zombie No Però Vabbè Diciamo Il padre degli zombie Che tutti noi oggi Riconosciamo come tali All'epoca Praticamente Robert Kurtzman Nello specifico Dice guarda Io Sto Ho avuto La commissione Di produrre Un film Sui vampiri Io accetto Di fare Le iene gratis Se tu Poi Mi scrivi Una sceneggiatura Di questo film Sui vampiri Che voglio fare Ah Lo scambio merci Esatto E Sai Molto bene Se andiamo Nei credit Da scrittore Di Tarantino Che nel Eccolo qua Nel 96 Lui Twilight No Lui nel 96 Scrive E interpreta Dal tramonto all'alba Diretto da Robert Rodriguez Con George Clooney Protagonista E Tarantino Che fa il fratello di George Clooney E con la prima apparizione Sullo schermo di Salmayek Credibile Tarantino Con il George Clooney In realtà è molto figo Funziona come film È molto molto bello Se non l'hai visto Te lo consiglio È completamente folle Come tutto ciò che ha fatto Tarantino Fino a questo punto Di più Nel senso I primi 30 minuti Sono un film normale Da mezz'ora in poi È una cosa Che non ti immagineresti mai Quindi guardi dal tramonto all'alba Fidati di me Lo vedrò L'altro problema È che essendoci pochissimi soldi Succede una cosa Che succede spesso Nei film Molto molto indipendenti Ovvero che gli attori Dovranno portarsi da casa I vestiti Motivo per cui Se avessi tutti uguali Motivo per cui in realtà Steve Buscemi Se ci fai caso Ha dei jeans neri Perché lui non aveva i pantaloni Del completo Aveva solamente dei jeans neri E quindi Si è messo i jeans neri Motivo per cui Michael Madsen Ha gli stivali da cowboy Perché erano Le uniche scarpe nere Che aveva Cosa che però Porta alla famosa scena In cui lui estrae Il coltello Dallo stivale Perché aveva gli stivali Ha detto Dove lo metto Sto c***o di cortello Lo infilo nello stivale Quando Le ristrettezze economiche Come diceva Gino Santucci Creano poi L'iconicità Una cosa che poteva andare male Ma non è andata male È Il ruolo che Tarantino Ha all'interno del film Nel senso Lui interpreta Mr Brown Che è il primo personaggio Che muore Spoiler Nel senso Si perde di vista subito E sta praticamente Solo nella scena iniziale Meno male Perché se no Come fai a dirige Visto che è il primo film che devi fare Questa però è stata un'idea di Timbrot Cioè è stato Timbrot a dirgli Senti zio Non fare Mr Pink Non fare Mr White Non farli Fai Mr Brown Che si leva subito davanti Così poi puoi dirigere il film Perché altrimenti Credimi Avrai dei problemi E quindi Fortunatamente Tarantino Si fa a convincere Si prende un ruolo Molto molto minore Anche perché Voglio dire Devi dirigere il tuo primo film Che non hai mai diretto niente In più devi pure fare l'attore Prima di andare avanti però Ma Rozingano ti interrompo Perché devo dire ai nostri utenti Che in descrizione Trovano il link Del nuovo video Della Slim Dogs Uscito sul canale YouTube Di Prime Video E questa volta si parla Di opinioni pericolose By Prime Abbiamo riportato Opinioni pericolose Su YouTube Ed è Un'opinione Veramente fica Secondo me Cioè che Il patriota Di The Boys Sia il miglior Cattivo Nella storia Di cinecomic Tu che ne pensi Non ci interessa Quindi Finite di vedere questo video Poi andate in descrizione Cliccate sul link E vedetevi il video Di opinioni pericolose By Prime E scrivete nei commenti Che bella la Slim Dogs Ma che brutto Marco Cioni Va bene Lo accetto Adesso andiamo avanti Con le iene Va bene Allora Le iene Non esce Non esce in sala Quindi lo girano E poi bruciano La pellicola E se ne vanno a casa Nel senso che Come qua Tutti quanti i film Indipendenti Inizia il problema Di trovare una distribuzione Ovvero trovare qualcuno Che paghi Madonna che palle Che fatica Eh già Porca Ovvero qualcuno Che paghi Per stampare le copie E mandarli nei cinema Fare il marketing Eccetera eccetera Il film però Va al Sundance E al Sundance Piace molto Insomma La critica Lo adora E le persone Che lo vedono Lo trovano incredibile E viene soprattutto Molto molto criticato Per la violenza Troppo Secondo Tarantino Anche secondo me Nel senso che Il film È effettivamente Pieno di sangue Però Non è Ironico No ma in generale Non è Non è violento Semplicemente Allora Splatter La scena che tutti ricordano È la scena ovviamente Del rasoio Con Con Stuck in the middle With you Il punto è che Quella scena È diretta ad arte E sembra Molto più violenta Di quella che In realtà è Cioè Molte persone Giurano Di ricordare Di aver visto L'orecchio Che viene tagliato via Quando in realtà L'inquagratura Panoramica Sul muro E si sente solamente Il rumore Tra l'altro È una scelta Deliberata Nel senso Tarantino Ha girato L'inquagratura Dell'orecchio Che viene seghettato via Però alla fine Dice di non usarla Perché era più violenta Esatto E l'altra cosa Che Secondo me Secondo Insomma Tarantino Spinge Tutti quanti A trovare il film Particamente violento È proprio L'utilizzo della musica Nel senso Ricordiamo che Tarantino È praticamente Responsabile Da solo Per aver preso La musica Anni 70 E averla resa Cool Cioè Nel senso Improvvisamente Piaceva a tutti Non solo Era No Questi personaggi Che in giacca Con In completo Con gli occhiai Da sole Camminano Con questa musica E tutto Pensi madonna Sono fichissimi E il problema È proprio che La canzone È molto Allegra E quindi tu Come pubblico Ti senti Coinvolto Perché ti stai divertendo Insieme a lui Un tizio che sta Maciullando Un altro tizio Quindi insomma Questa cosa è molto Violento Sicuramente aiuta Però Il film Esatto Perché poi Io quello che voglio dire Associazioni dei genitori Se voi faceste I c***i vostri Tante delle cose Che criticate Non avrebbero successo Perché il punto È proprio che Questo è violento Saranno successi I peggio bordelli Perché questo film Rovina la vita Dei nostri ragazzi La violenza Devasta Le generazioni future Quindi tutte Le generazioni nuove Sono andate al cinema A vedere il film Che i loro genitori Non volevano Che loro vedessero Quindi se vi faceste I c***i vostri Probabilmente Molte delle cose Che non volete Che abbiano successo Non l'avrebbero Detto ciò Quello che succede È che il film Ha abbastanza successo Al Sundance E viene Acquistato Per i diritti Di distribuzione Da un duo Ormai diventato infame Ovvero La Miramax Dei fratelli Weinstein E lo specifico Harvey Weinstein Che era Una sorta di Angelo custode Per Tarantino Perché quello Che compra le iene Decide di distribuirlo Dice di puntarci A cannone Ed è lo stesso Che poi produrrà Pulp Fiction E tutti quanti Gli altri film Di Tarantino Succede quindi Che Harvey Weinstein Con la Miramax Acquista I diritti di distribuzione E il film Viene preso In selezione ufficiale Al festival di Cannes Che è una roba Importantissima È una stratosfera Degli autori Sì perché Quello che succede È che il film Viene proiettato a Cannes Anche lì Fa un successo incredibile Tarantino diventa Famosissimo Quanto meno il suo nome Diventa uno dei più Chiacchierati Tant'è che a Cannes Viene invitato A la festa in barca Dove ci sono Riverstone Cameron Everover Che erano anche loro A Cannes Quindi proprio Specificatamente Chiedono Andate per favore A recuperare Questo Quentin Tarantino E ce lo portate La festa in barca Che ci vogliamo parlare Che persona Sai che deve dire Andatevi a recuperare Quentin Tarantino Un nome a casa In senso Invitatelo Alla festa Ci teniamo Quello che succede Che poi Dirige Pulp Fiction Pulp Fiction Addirittura vince Il festival di Cannes Prende la palma d'oro E a quel punto Tarantino È Confermato Come il nuovo Autore americano Il nuovo cinema americano Quello Quello d'autore Quello che vince I festival all'estero Che è una cosa strana Nel senso Solitamente i film americani Vincono in America I film europei Vincono in Europa La cosa particolare Di Tarantino Rispetto ai registi Che abbiamo visto Fino ad ora Quindi Spielberg Kubrick E Fincher È che La sua opera prima È un capolavoro Nel senso È una roba Che ha fatto La storia del cinema Mentre Negli altri casi Tu dici Ah ok Si si vedevano degli elementi Era il primo passo Verso No Tarantino con le Iene Fa una roba Subito Tarantino Che cambia Esatto Fa subito Tarantino Fa una roba Che cambia La storia del cinema È una storia molto particolare Perché poi Ovviamente Ha lanciato un sacco Di leggende Riguardo a gente Appassionata di cinema Che ti svegli E fai un film Perché ti piace tanto il cinema Perché Tarantino Lo dice sempre Se ami davvero il cinema Non puoi fare a meno Di fare un bel film Sì Rispetto a magari Spielberg Fincher E comunque Avevano talento Ma poi si sono messi lì Hanno lavorato su tante robe Per poi farsi anche Una capacità artigiannale Bisogna dire che Però Nel senso Le Iene Non solo è un film Particolarmente autoriale Particolarmente Di talento Per come esce fuori Però è anche un film Stutturalmente molto solido Cioè Un film Tecnicamente Molto ben inquadrato Perché lui Non è Perché sa scrivere Non solo sa scrivere Lui Ha visto talmente Tanti film Conoce talmente Tanto il cinema Assorbiti per osmosi Per una questione di osmosi La struttura Il ritmo dei suoi film È automaticamente buono Perché Imita tutto Però imitando tutto È come se non imitasse niente Prende da piccole cose Di ogni cosa E quindi fa questi film Che sembrano Originali Originali Macitazionisti Quindi Ci metto un attimo Sempre Perché a riaccendersi È più lento Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi Se non siete iscritti Attivate la campanella Così sarete aggiornati Tutti i video Che usciranno Ma soprattutto Lasciateci dei commenti Dicendoci quali sono i registi Che vorreste vedere In questo format Anche perché Io Tarantino L'ho scelto Proprio perché Cioè è bombardato Di richieste E quindi ho detto Tarantino Ti è Vi ricordo che questo lunedì Alle 21.30 Ci saranno Mauro e Giovanni Su Twitch Che approfondiranno Ancora di più Tutta la storia Di Tarantino Come regista Andando molto oltre Alla sua opera prima In descrizione Trovate il link Per seguirci su Twitch E tu adesso Devi usare il tuo potere Per finire questo video Ma secondo te Io sono in un momento In cui sto testando I miei poteri I miei limiti Voglio capire E se riesco a chiudere Il format Anche facendo club Su un'altra parte Del corpo Ma provo io posso No Facci tu Se dove è andato Al nero Perché se non c'è sentito Per il club Andaggia Guarda Hai proprio rischiato Tantissime cose In questo momento Meno male che è al nero Adesso il format Altrimenti Ciao